E' prestissimo, le otto e mezza di mattina, siamo sotto di quasi 7 gradi, è veramente freddo ed era un po' di tempo che non facevo un vlog La temperatura è migliore, siamo a meno, meno 1, poco fa c'era a meno 6, vado verso il negozio e continuiamo la giornata Questa sera sono stato invitato da Sasha D'Alcol, metto il link sotto Sasha D'Alcol che è il redattore della trasmissione che si chiama TG Talk su Tele Ticino E andrò a fare l'internet influencer con Claudio Bazzura che lui è un grandissimo youtuber, che vi metto il link in descrizione E vado a fare quello che fanno poi in tutte le televisioni, parlare della situazione YouTube Mia giornata lavorativa è finita, mi preparo, vado a Melide e vado agli studi della televisione A quest'ora tipo le ore 7 c'è sempre un traffico, sono tutti i lavoratori che tornano a casa in Italia E sembra di essere a Nuova Delhi Un po' fa è l'oceano, il Moulin Rouge E' una delle case d'appuntamento più famose che c'è qua in Svizzera Ci fanno tutti i pellegrinaggi, almeno tutti chi vuole avere del sesso a pagamento Mi trovo a Melide e sono arrivato finalmente agli studi qua a Tele Ticino Dove andremo dentro e prendiamo parte al programma di Sasha Andiamo agli studi C'è qualcuno in redazione Vedo di entrare in redazione, in redazione qua è il cuore Qua fanno tutte le notizie Ecco qua ci sono un po' di personaggi Sì, guarda, ecco, andiamo a incontrare Oggi YouTube, oggi non è televisione, siete sulla rete direttamente Siamo in rete Siete on the web, Sasha D'Alcol E lui sarà il mio intervistatore Sì, conduttore E poi tutto il resto della family Il consultore, perché lui inonda dopo di me I conti in tasca Non me li fai a me perché non fai tanto da me Andiamo a vedere Claudio Claudio, andiamo a vedere Claudio Grande Che forma? Allora per gli amici Claudio Bazzurri è alias Jones Rick Sì, sono io E mettiamo il link in descrizione Anche perché poi lo posti sul tuo video Perché non stai vloggando tu? Ma non sono La cosa bella è che sto andando in onda adesso E si vede molto meglio di casa mia il video Ciao ragazzi Matthew Herman alias Swampy E beh, questo è quello di prima, l'avete visto Questa è la fine della prima parte E la prossima parte la vedremo sabato prossimo Non mancate Ciao 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 Grazie a tutti